Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con Marci che è diventato un creeper Ciao a tutti Tech Ciao a tutti Yacorollo Ciao a tutti Eddare in play Ciao a tutti Vedi come cammina uno con le emorroidi Come cammina Ok Dopo questa ti meriti di cadere di sotto Comunque ragazzi siamo sul server di Mineplex a fare block hunt Quindi speriamo di nasconderci bene Ci arriviamo in partita Eddè No sei Ancher Io sono Non possiamo parlare Vitano zitto E' vero se no ci sghamano subito Vitano Tech è un coso Come un coso Traditore Tech Raga Non trovo il pot regà Ragazzi non so in cosa trasformarmi Ma chi è il melone Io Ragazzi Raga mi vedete Sono uno che gira a caso No io non ti ho visto Non sei qua Vedetemi me Sì sì Mi chiamato pronto Raga però non parlare così mi fa paura Adesso devo saltare là Raga non so dove andare Oddio No 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 Moriamo 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 Yacor Chiedi è pessima Oddio sta arrivando Yacor corri C'è un melone Chi è il melone qua No Ero quasi lì Sono morto Dall'acqua sei morto No poverino Chi è questo melone qua Io qua Chi è qua Ragazzi bisogna di raccambiare Un minuto C'è qualche seconda Ecco ora si devi già cambiare Guarda io sono morto Quindi Ok ok Io devo scappare in qualche modo Ma là c'è gente C'è una TNT che corre qua Mi hanno ucciso Eren Ecco l'hai preso te Boom Bravo Eren Guarda che c'è un altro qua Che mi tirava le frecce Oddio Guardalo L'ho visto Eccolo Guarda dentro nella Dove 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 Yacor l'ho ucciso Spero non l'abbiate visto Ok Ho beccato uno a caso Io mi devo Spostare Qua c'è gente Qua c'è gente raga Marci Domina chi sta venendo a te Marci Marci Cazzo Cazzo Dove siete Venite fuori Dai Non so dove c'è Spero qua in giro Marci Ciao Marci Io ho appena cambiato Però Yacor Yacor posso dirtelo Ok so cosa fare Perché sopevi che ero lì Mi sei miei puntato Ma anche Eren Lo sopeva che ero lì No questo è il punto Ovvio ero dietro di voi Non c'è nessuno qua Ah uno sull'albero Eren Dov'è Questo albero qua Raga mi dite perché Ci sono di qua Eh ma ho visto che tiravano le frecce No raga Fate F3A Vedete tutti i pot sopra gli alberi No 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 Sei pazzo Sei pazzo Non fate ragazzi Barare È metano È metano Non è vero Dove 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 È qua sopra lui Non è vero Curo Aspè aspè Cerco di raggiungerlo Ragazzi non è vero Allora aspetta Devo trovarvi Devo trovarvi No Preso Preso Metano Mica me Arrivo Metano No ragazzi ho paura Vi prego Non fate nulla Siete cattivi Adesso è caduto È caduto Dov'è Dov'è andato È sotto Sulla spiaggia Ma non sono io Non state guardando me Eh lo so Voglio fare questo Ah ok Vedi all'infarto Dovete cambiare Raga Io No Io Non sono un minuto E tu non è da Metano È rimasto Come Oddio siamo rimasti in due Devo cambiare Già E cosa divento Devo prima Osservare bene L'ambiente Quintorno E dopo Vabbè diventa Intelligente Ciao Metano Metano ti vedo Che ti stai spostando Dov'è Dov'è È qua dietro Che c'è Grazie La mappa è gigante È un blocco È un blocco No ragazzi Io mi metto Tipo Aiuto Le indicazioni Guarda No no Ma ragazzi L'ho perso di vista Non per altro Non è vero Non è vero Ragazzi Andate via Dai diteci qualcosa Ok Metano Metano Fai il furbo Dai dici qualcosa Oh Cazzo Perché quando No Stronzo Stronzo No Ciao Metano No Cos'era Metano Era in un angolo Delle Raga Ne manca uno E siamo in due Cazzo Iaco di merda Proprio Ma come fa Ma mi avevi visto te Eh sì Ma va Dai Poi cosa ci fa Un Non lo so Ma speravo di essere tipo mezzo invisibile L'adietro Ragazzi Ne manca solo uno Dai Almeno possiamo vincere noi Cerchiamo di colpire tutto a caso Vabbè dai Perché non ha sposto bene Come facciamo a capire dov'è Su tizio Non si capisce infatti È impossibile Ficilissimo Keep calm And Metano Show Infatti non so come avete fatto a trovare me Servirebbe il kit tipo quello tattico Che indica dove sono i nemici Però io non so usarlo Cioè Ma chissà dov'è Magari è nascosto su qualche albero Accampato Fare il Il vasetto È un gioca divertente come noi Pesta È un gioca sporco Lui sarà camperato tipo da qualche parte Veramente Ragazzi 40 secondi Se non ce la facciamo è la fine Cosa cazzo è sto coso? Potrebbe essere Ma c'è un maiale dentro la terra Ma chi E mi guarda pure Ma che cosa brutta No ragazzi Non ce la faremo mai È la fine È la fine di tutto Ha vinto Cavolo No Devo venire In tutto ciò Sarà stato camperato Ok ragazzi Eccoci nella seconda partita Speriamo che questa volta ci vada meglio Su tutto che nessuno Diacco lezzo Rompa le palle No Qual è successo? Ma no Mi ha di nuovo messo tra i Tec ma sei proprio un traiettore però No ma è un travestito No no Tec Sei un traiettore Ogni volta contro di noi Lo fai apposta Sei lezzo proprio Adesso vengo lì e ti trovo No Sei pazzo Tec adesso compro il kit Questa 5000 gemme Ok Voi non siete Ok siete rilasciati ora No raga Il kit che io È una paura Cioè tu non sei Non sei un blocco Un animale Tu gli infesti i blocchi Quelli già presenti Oddio Sul serio? Sì solo che Adesso mi ha lasciato Vedo un vasetto correre E adesso io sai cosa ho comprato Il radar No Il radar è bugato Ma come sai rubare in game Ah comprare in game scusa Eh no quando sei lì lo usi Fai schiacci slash youtube No comunque Tec seriamente Io l'ho usato la scorsa volta Quello con radar E indica posti a caso Perché vai lì e non c'è nessuno Ciao Tec Non picchiare i maiali Tec Io sto corriendo in giro a caso Perché c'è uno slime rega? Dai lancia una freccia Se hai coraggio metano Ok Ah io corro in giro a caso Eh ecco ecco E di qua E di qua Ne sei così convinto? E danno Vieni qua Ne sei così convinto? Oddio Vieni qua Accanto a me No se accanto a me Cazzo cazzo Voi via Voi via Voi via No lo so che tanto stai barando Ovviamente Ovviamente Ma ti pare che ti dico dove sono Beh metta te poi Eh beh Non mi aspetto altro Guarda No ma io C'ho un po' di paura Che poi ora dobbiamo anche cambiare ragazzi È vero tra poco si deve cambiare Io ho appena cambiato Quindi sono a posto Io non so cosa diventare Stamente Sono faricchio indeciso È bellissimo infestare gli animali Perché si muovono da soli Quindi sei stra realistico Eh sì Però adesso Ho cambiato Tecca quella di fianco a te L'ho ucciso cinque volte Non vedi te Eh Ren Marci Eh no ma no c'è Ci troviamo al nostro posto Sono lì Non ti vedo Sarai sulla casa Da qualche parte Qua dentro Ok io cambio ragazzi Non penso che tu intenda Quel posto Chi ha un vaso? Eh Forse io È Marci che sta scappando Secondo me No no io non sto scappando Ho visto un vaso che correva Sono sempre fermo Probabilmente ero io Seriamente Chiacca Ma raga io sto combattendo con uno Un razzo Sto combattendo con uno Perché me l'ho appena scambiato Con altre cose Quindi sai com'è Dovevo scappare Eh beh Ti ho aiutato io Ma in Perché era zoom Me? Ragazzi dove ho avvito Sono diamante Ho la spada La cosa in diamante Io lo switcho un po' Così Ma ragazzi ma vi giuro Questa qua sta laggando Troppissimo Eh scappa Scappa No ma va Voglio ammazzarla Ma no ma sei pazzo Ma cosa no c'è una spada Dai dateci una qualcosa Perché sennò qua non si riesce a far niente Ma stavo stai andando a riemarci Fai il rumore dell'oggetto che sei dai Eh il vaso che il rumore fa Mi sa che mi ha sgamato Pacca un vaso per farli sentire Esatto Ma la mamma è contenta No ragazzi c'è un accanto C'è un accanto No 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 Cazzo cazzo Devo scappare Devo scappare ragazzi Se lo vediamo scappare ma Ok 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 Oggetto e luogo Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta scappare ragazzi E' quella che abbiamo riempito io e Marci Ragazzi e' mia Ce l'ho fatta scappare Ah ma forse Siete qua raga forse Oddio Eh Jaco tu sei sempre in quel posto lì? Sì Ma come? Dove sei? Ma come ha fatto? Eh nell'angolino Dobbiamo cercare di capirci Non ti vedo Jaco Perché io forse sono vicino a voi Però non ne sono sicuro Oh cazzo Mi mostro un attimo E' tu Jaco? Sì Ragazzi mi devo ancora riprendere dallo shock Ma dai Ere manchi solo tu Vieni Eh vieni nel po' Saremo introvabili raga Ma sono qui con voi quindi Perché io non vi ho visti Dove sei? Ma noi siamo dentro la Eh Dove sei tu? No io sono da un'altra parte Ma no ma questo è il nostro posto nuovo Oh sei pronto a scappare? Dove sei Marci? Eccolo lì è scappato C'era un vaso sul tetto Dai 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 Sta venendo uno Ah sta venendo nessuno Ok io ho cambiato di nuovo eh Eccolo lì davanti Dipende dove Ha anche l'effetto Jaco ma tu dove sei più o meno? Sulla spiaggia? Sulla terra? No noi siamo su un tetto io Jaco Ah ok davvero? Abbiamo trovato una torre che Abbiamo visto che è accessibile Avete tirato un fogo d'artificio? Guarda qua guarda qua Sì E allora vi ho visto So più o meno dove siete Ma scusa Questo qua c'è gli effetti Particellari Sì sì c'è uno con gli effetti C'è uno con gli effetti C'è uno con gli effetti Particellari Si sghamano subito Proprio dei geni Eh sì Io ragazzi a un minuto preciso tiro un razzo eh No raga raga mi hanno visto Tirato Io raga inizio Io da un minuto inizio a scappare Sì anch'io Io no a 30 secondi Ma raga ma un minuto Scappiamo Allora via No ragazzi un minuto Io comincio a 30 secondi Oddio c'è uno slime che corre Chi è lo slime che corre? Lo slime? E' uno slime gigante che corre Non so nulla ora Non so Ah sì sono io lo slime E tu Marzi? E questo Marzi? Sono io per forza lo slime No c'è c'hai qualcuno dietro allora Perché ti ho visto uno correre dietro Eh lo so Però ho 33 secondi Eh ce la fai Vai Oh no sta arrivando Come farci? Sta arrivando a rendi qua Ci porta la gente Anche io più o meno sto correndo Cioè io sto correndo Senti voi Ciao Vasetti No Ti vedo ti vedo Ce la facciamo Stavolta ce la facciamo No no Tec non fare la cacca Tec non fare la cacca Vieni qua Vieni qua Oddio ho visto Ho visto Tec No No perché mi è partito Twitch Cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa? Mi è partito Tec Tec Alla tua destra Alla tua destra Tec Stava partendo in live di Twitch Aiuto Minchia siamo in live Sì E ce la facciamo Vale Perché sono perché corre più veloce Ciao Tec Sono un maialino qui Ciao 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 E ciao Quindi ragazzi Mi ha fatto due partite Tec è stato un traditore Quindi è veramente una persona brutta Io? Come traditore? No Non ho fatto niente No no Tec è sempre andato Nei nemici E mi ci hanno buttato Mi ci hanno buttato Vabbè Comunque ragazzi I canali di queste brutte persone Li trovate in descrizione Qui è successo il casino assurdo Ma che cazzo? Ragazzi non ci capisco nulla Ragazzi Dove sei finito Marcite? Non lo so C'è un villaggio Vabbè Lasciamo stare Ma ci finito in altre dimensioni Comunque spero che il video vi sia piaciuto Ed è Ciao a tutti Ciao 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 Ciao